Violet Evergarden, in giapponese violetto Eva Gaden, è probabilmente uno degli anime più emotivamente toccanti dell'ultimo periodo. Ideata da Kana Akatsuni e illustrata da Akiko Takase, la saga costituisce 13 episodi della serie originale, un episodio bonus, un film riassuntivo della serie e due film prologhi della serie stessa. L'anime è ambientato in un mondo parallelo durante la sanguinosa guerra tra la coalizione meridionale, capitanata dallo stato di Leidenschaftlich, e la coalizione settentrionale, capitanata dall'impero Galaric. Violet venne trovato in condizioni pessime nel fronte nord-orientale da un maggiore di Leidenschaftlich, Gilbert Bougainville, e proprio lui le diede il nome Violet. Le fece imparare a leggere e a scrivere e per 4 anni la usò come bambino soldato per vincere la guerra. Ma nell'ultima battaglia Gilbert rischia molte volte di morire e verso la fine ricevette diversi sfali sul petto. Violet, che aveva perso entrambe le braccia, cercò in vano di salvarlo, ma svenne all'improvviso per poi risvegliarsi in una sala d'ospedale, dove ci rimarrà per 4 mesi, convinta che Gilbert fosse ancora vivo. Se ne presero cura Hodkins, prima tenente di guerra e poi presidente della compagnia postale CH, in cui Violet ci lavorerà in futuro, e della famiglia Vergarden. Anche se i rapporti con loro non erano tanti idilliaci, dato che voleva rivedere Gilbert. Violet decise di diventare una bambola di scrittura automatica nella società postale CH, ovvero che scriveva lettere con la macchina da scrivere a richiesta dei clienti. Dato che aveva perso le braccia in battaglia, aveva delle protesi che le permettevano di battere a macchina, e dopo tanto allenamento e un diploma in una scuola prestigiosa del mestiere, diventò la bambola più famosa della città di Leiden, richiesta da ogni parte del continente. Questo era solo un assaggio della serie che potete trovare su Netflix, vi consiglio di vederla perché è probabilmente una delle storie più belle che abbiamo visto, e detto questo vi lascio. Ciao ragazzi!